Chiaramente per voi è una vittoria importantissima, ti chiedo qual è stata secondo te la chiave di questo successo? No, siamo stati molto bravi soprattutto nel primo tempo a chiudere una squadra forte come il Pescara, a non farle calciare in porta, sappiamo che il Pescara è una grande squadra, l'abbiamo visto, l'ha dimostrato secondo me, però siamo stati bravi nell'episodio soprattutto, nel portare la partita da nostra parte. Ecco, sul primo gol dove avete fatto una pressione molto forte su Crescenzi, l'avete proprio preparata così sul possesso palla bassa del Pescara a cercare di andare a mettere pressione, poi è chiaro, l'Icrescenzi ha fatto un errore individuale, ma era un vostro obiettivo andare a mettere pressione? Sì, sì, noi giochiamo sempre in questa maniera, c'è andata bene, quindi siamo contenti. Alla fine Cuppone mi ha messo un po' paura. Sì, Cuppone lo conosco, ho giocato anche insieme con lui nel settore giovanile, quindi sappiamo che è un giocatore forte e che dà tanto fastidio quando gioca.